Dopo l'eliminazione da X Factor, Morgan ha rilasciato una lunga intervista a striscia alla notizia, dove dopo le svariate cose, gli attacchi a Sky, al programma, insomma agli altri giudici, ha colpito soprattutto quello che ha detto di Fedez, ovvero ha raccontato che Fedez è entrato nel suo camerino, ha cominciato a tirar pugni dentro il suo camerino, a bestemmiare tutto ciò davanti alla figlia di Morgan, che ha soli tre anni, la quale ha detto a Morgan, papà perché hai paura. Questo è quello che racconta Morgan. Dall'altra parte Fedez invece ha rilasciato un'altra intervista a striscia, dove ha detto che non è assolutamente vero, che anzi è successo il contrario, e che Morgan dovrebbe, anzi dovrà rispondere a tutto ciò davanti a un giudice. Ma voi a chi credete? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere qui sotto. Invece se volete essere sempre collegati con tutto il gossip del momento, collegati su www.donnaglamour.it, vi aspettiamo.